Nome, cognome e professione? Giampiero Vietto, marketing manager alla Ferrero. Cosa l'ha spinta a tornare anche quest'anno a trovarci alla Dreamer School? Mi ha spinto la curiosità di vedere cosa succede qui, perché l'anno scorso ero venuto, ma non durante l'attività vera e propria, ero venuto solo a vedere i lavori di preparazione. E quest'anno invece sono venuto a vedere cosa succedeva veramente sul campo. Crede che il lavoro dei color a Londra rispecchi lo stile della Dreamer School? Sì, perché per quello che ho potuto vedere a Londra, effettivamente era veramente come era intitolata sul materiale di comunicazione, era un soggiorno vacanza, anzi era un soggiorno studio. Perché effettivamente i ragazzi che ho visto e i loro accompagnatori erano molto impegnati per capire cosa vuol dire vivere una così bella manifestazione. Quindi guardavano, osservavano, facevano interviste, curiosavano in tutto e per tutto a Casa Italia. Insomma, penso sia stata per loro un'esperienza molto arricchevole per loro. Grazie.